permesso come sta tutto bene lei molto rieto benvenuto si accomodi grazie bene allora come prima cosa le chiedo se si aspetta dal nostro programma di perdere qualche chilo di seguire un'alimentazione corretta come dicevo a roberto certamente perdere qualche chilo che fa sempre bene ma la mia idea era stando bene di creare come dire un regime alimentare che nel tempo mi mantenga in salute prevenendo poi tutti i normali acciacchi dell'età futura benissimo e c'è qualche alimento qualche categoria di alimenti che invece preferisce non mangiare per qualsiasi motivo ma ho quasi un'allergia sicuramente un'intolleranza all'aglio alla grappa che non credo che lei però vorrà consigliarmi per la prima parte del percorso non ne richiederò mai e in generale cibi molto acidi bene e come tipo di alimentazione preferisce seguire un'alimentazione tradizionale quindi con carne e pesce lei sa che come divulgatore io dico sempre che siamo nati onnivori come specie siamo onnivori quindi io sono onnivoro e voglio restare onnivoro perfetto come ultima cosa prima di iniziare il programma le chiedo di fare alcune analisi del sangue le lascio qui la lista e l'aspetto la prossima volta con le analisi per farle visionare al medico questa è una cosa di grande garanzia e di serietà la ringrazio tanto arrivederci a presto